buongiorno e benvenuti alla lezione di ginnastica dolce qui da juvenia on fitness procuratevi un asciugamano perché oggi faremo la lezione con questo attrezzo allora arrotoliamo bene l'asciugamano bene in presa respiriamo e portiamo le nostre braccia avanti mantenendo l'asciugamano teso avanti e scendiamo arriviamo a sfiorare le nostre gambe e torniamo avanti lentamente su e scendiamo fuori l'aria inspiro prendo aria su su avanti e attenzione mantenendo le braccia avanti andiamo a portare una mano per volta in alto come vedete l'asciugamano è sempre disteso ognuno con i propri tempi senza avere fretta alterniamo destra e sinistra torniamo e portiamo il nostro asciugamano lateralmente da questa posizione vado in alto lo seguo con lo sguardo e scendo dall'altro lato in alto seguitelo sempre con lo sguardo e scendo in alto e giù salgo e giù salgo e giù salgo e giù salgo e giù in alto e torno lentamente rimaniamo lateralmente e lo facciamo oscillare avanti e indietro per farlo oscillare spingiamo una volta con la mano destra e una volta con la mano sinistra spingo indietro spingo indietro e spingo indietro e spingo avanti passiamo dall'altra parte come prima guardo seguo e giù e andiamo avanti e indietro torno e porto il mio asciugamano appoggiato sulle gambe da questa posizione lo faccio scivolare in basso verso le caviglie e torno su quando scendo avanti col busto lo sguardo arriva fino a pavimento quindi guardo avanti basso mantenendo la testa allineata al corpo quindi pian piano scendo pian piano lo sguardo scende verso i miei piedi verso il pavimento le spalle sono sempre aperte il petto è sempre fuori e faccio scorrere l'asciugamano dalle ginocchia fin dove riesco arrivare e su inspiro prendo aria e scendi e sali fai scorrere e torno e giù e torno scendo e torno ancora una volta scendo torno e questa volta lo porto vicino all'addome da questa posizione mantenendo sempre l'asciugamano teso porto le braccia in alto vado in alto vado in alto e riporto l'asciugamano in basso facendolo scorrere lungo il corpo quindi sempre manteniamolo sempre vicino a noi e torno e andiamo in alto e giù in alto e giù seguiamo con lo sguardo il nostro asciugamano in alto e giù salgo ancora una volta e giù bene questa volta partiamo da braccia avanti e andiamo a portare l'asciugamano lateralmente andando a ruotare il busto a destra e a sinistra anche qui l'asciugamano è teso vado in rotazione con la spalla con la testa col busto mentre il bacino rimane fermo bene in appoggio sulla nostra sedia inspiro espiro prendo aria e fuori prendo aria e fuori su e fuori lentamente fuori 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 e giù torno sciogli sciogliamo le spalle lasciamo momentaneamente l'asciugamano sulle nostre gambe e andiamo a fare delle circonduzioni alternate il braccio passa bene vicino alla testa nelle prime ripetizioni non andiamo a forzare la spinta indietro andiamo ad allentare un pochino la tensione andiamo a riscaldare un po' la nostra articolazione prima di permetterci di avere un movimento più ampio quando sento che la spalla piano piano mi va ad allentare la tensione mi permette appunto di scivolare meglio indietro cominciamo a provare un movimento più grande più ampio una circonduzione più ampia in alto e giù via su alterniamo destra e sinistra andate sempre con i vostri tempi è fondamentale fare un esercizio che ho fatto bene mi interessa molto meno il tempo quindi fatelo bene anche se il tempo di cui avete bisogno è più lungo di quello che utilizzo io e ancora uno torniamo in presa con il nostro asciugamano andiamo con le braccia in alto divarichiamo un pochino di più le gambe e portiamo il busto in flessione a destra e a sinistra una piccola flessione laterale giù senza sollevare il bacino dalla sedia torno al centro lo sguardo è sempre avanti quindi scendo e torno e giù e torno lentamente scendo e torno ancora scendo su e torniamo al centro torniamo al centro e scivoliamo con il nostro asciugamano mantenendo la testa bassa e ci abbandoniamo scaricando la schiena e rilassando avanti il collo le braccia e la testa respira e lentamente appoggio l'asciugamano sulle gambe spingendo salgo su e srotolo la nostra colonna recupero qualche secondo respiro e ripeto scendo avanti giù 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 testa collo braccia appoggio spingo srotolo salgo lasciamo l'asciugamano appoggiamo le mani sulle gambe e andiamo a mobilizzare la nostra cervicale la nostra cervicale scendendo con l'orecchio sulla spalla lentamente andiamo in flessione senza forzare senza forzare scendiamo a destra e sinistra rimaniamo e andiamo avanti e torniamo alla posizione di partenza mantenendo sempre la flessione laterale mantenendo sempre l'orecchio vicino alla spalla e lentamente passando per il centro ci spostiamo sull'altro lato e andiamo avanti avanti e torniamo e lentamente torno al centro sguardo avanti scendo con lo sguardo in basso e torno con lo sguardo avanti ancora lentamente scendo avanti cercate di mantenere sempre le spalle rilassate non andate in tensione con le spalle scendo avanti scendo avanti e torno a con lo sguardo fronte e giù rimaniamo rimaniamo giù e vado destra e sinistra mantenendo il mento vicino al petto e e e e e Torno con lo sguardo avanti e vado in rotazione, a destra e a sinistra. Mantenete sempre la posizione corretta della schiena e delle spalle. Spalle aperte, schiena dritta, spalle basse e rilassate. Spalle aperte, schiena dritta. Torno al centro e vado a fare una semicirconduzione da destra verso sinistra e da sinistra verso destra. Lentamente. Ricordatevi sempre che la prima posizione nella semicirconduzione è orecchio su spalla, poi scivolo avanti, orecchio su spalla e poi torno al centro. E giù e torno. Scivolo avanti e torno. E torniamo al centro. Sciogliamo le spalle, riprendiamo il nostro asciugamano, lo pieghiamo, ok? In questo modo ci sediamo sul bordo della sedia e andiamo a fare un passaggio da un braccio all'altro con il nostro asciugamano, cercando di non andare molto avanti col busto ma invece di andare indietro con la spalla e con il braccio. Quindi cerchiamo di mantenere la posizione delle spalle normale come prima, con le spalle aperte. È la mia mano che va bene dietro per fare il passaggio. Passo. 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 Fuori. Ancora una volta. E benissimo. E adesso andiamo a sdraiarci sul nostro tappeto. Perfetto, allora ci sdraiamo comodi con le gambe in appoggio sulla nostra sedia. Le braccia lungo i fianchi e andiamo a portare una gamba per volta al petto. Porto la gamba al petto e torno in appoggio sulla sedia. Lentamente al petto e sulla sedia. Su e torno in appoggio. Spingo e torno in appoggio. Spingo e torno in appoggio. fuori l'aria quando portiamo la gamba al petto. Inspiriamo quando torniamo in appoggio. e attenzione, andiamo a portare la gamba al petto, portiamo il piede verso il soffitto e torniamo. Uno, due, tre, e appoggio. 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 Spingo, in alto, e giù. Spingo, in alto, e giù. Spingo, in alto, e appoggio. L'ultima. Spingo, in alto, e torno. Lentamente andiamo a portare le mani dietro la nuca. Sosteniamo bene la nostra testa. Le gambe rimangono in appoggio sulla sedia. E mandando fuori l'aria, solleviamo le spalle. Lentamente andiamo in alto, concentrando tutto il lavoro sugli addominali, e torniamo. Salgo, espiro, scendo, inspiro. Lentamente vado su, ed inspiro. Salgo, e giù. Salgo, e giù. Su, e torno. Lento, e giù. Lento, e giù. Lento, e giù. Salgo, e torno. Salgo, e torno. Andiamo ancora in alto, e giù. In alto, e torno. In alto, e torno. In alto, e rimaniamo in alto. Rimaniamo qui, andiamo solo a respirare. Ispiro, 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 ispiro. E ancora, solo respirazione, e blocco bene la posizione. Mi raccomando, la testa rilassata bene sulle mani, e scendo. Recuperiamo qualche secondo, e riprendiamo lo stesso esercizio. Torniamo con le mani dietro la nuca, torniamo a sostenere la nostra testa, e torniamo a sollevare le spalle, mandando fuori l'aria. Ispiro, e lentamente su, e scendo. Salgo, e giù. Via in alto, e scendo. In alto, e scendo. In alto, e scendo. Via in alto, e giù. In alto, e giù. In alto, e scendo. In alto, e rimango su come prima, solo respirazione. Inspiro, ispiro. Inspiro, ispiro. Inspiro, ispiro, 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 e giù. Andiamo a staccare le gambe dalla nostra sedia, e portiamo le gambe al petto. Le braccia sono lungo i fianchi, sempre rilassate, leggermente divaricate, e da questa posizione porto una gamba fuori per volta, divarico e torno in alto, divarico e torno in alto. Una gamba per volta, cercando di mantenere il resto del corpo, bene, in appoggio. Lentamente vado fuori e torno, una gamba per volta, e torno fuori l'aria, e prendo aria. Su, 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 e piego le gambe, porto le gambe al petto, e ripeto lo stesso esercizio, una gamba per volta. Vado fuori con il ginocchio, questa volta i piedi sono a contatto, una gamba per volta fuori, e riunisco. Lentamente vado divaricare e torno gambe unite, divaricare e gambe unite, abbiamo detto i piedi a contatto, e il resto del corpo rilassato. Apro e torno fuori, e vai a riunire, fuori, riunire, ancora fuori. Apro e torno fuori, riunire, e lentamente, da questa posizione, passiamo sul fianco, e ci sediamo. Portiamo tutte e due le gambe avanti, e vado ad afferrare le caviglie o le punte dei piedi, fin dove posso arrivare. Rimaniamo in allungamento, respiro, scendo bene avanti, Vado a piegare le gambe, le mani sotto le ginocchia in presa poprite, vado giù con le spalle indietro, andando a ricercare l'allungamento della schiena, il mento è basso al petto, espiro, petto in fuori, inverto la curva della mia colonna, e di nuovo. Spingo bene indietro, inverto, ancora una volta, e su. E grazie, io vi auguro una buona giornata, un saluto, e seguiteci sempre su Juvenia On Fitness. Ciao!